Per cuore gialloblu siamo nel retro di fianco al campo del Palo Olimpia, due parole con Luca Becchi, la partita ha visto la vittoria di Verona, ma ha visto una Torino partire con un piccolo handicap iniziale, poi una grandissima rimonta, mette la testa avanti del terzo quarto, poi forse un complice, qualche fallo di Rosselli che forse è il più pesante che l'ha tolto dal campo, i punti vanno a Verona, ma Torino a mio avviso ha una grandissima consapevolezza e grande margine di poter giocarsi questo come è venuto fino in fondo e anche, perché no, provare a vincerlo. Sì, senza dubbio, io ci tengo a ringraziare tramite il vostro canale i tifosi che sono stati numerosi, calorosi, questa unità di intenti è molto importante, è finito il girone d'andata, abbiamo visto tutte le squadre, speriamo che tutte le vicissitudini che abbiamo passato siano finite, Verona ha vinto meritatamente, io credo che ci siano stati due passaggi decisivi all'inizio e all'inizio della partita, all'inizio del quarto quarto, quando abbiamo permesso a Verona di scappare e non ucciso Verona quando abbiamo messo la testa avanti, queste sono state due cose che dobbiamo prendere e portare a casa come elezione, però abbiamo dato la sensazione di avere margine, però il lavoro è una cosa che ti aiuta a crescere, e noi per mille motivi che adesso non sto a elencare, tanto tutti lo sanno benissimo, abbiamo dovuto fare mille curve, mille adattamenti, mille aggiustamenti e non è facile quando tu invece di seguire la tua linea guida vai a tappare le falle o a cercare di nascondere le situazioni particolari. Dobbiamo guardare avanti, ripeto, mi auguro che ci sia nei prossimi mesi una scuola che si possa allenare e crescere insieme, perché appunto ci sono dei margini interessanti, oggi l'abbiamo visto. Sulla partita ha sintetizzato bene a mio avviso Luca, ne parleranno, ne scriveranno i giornali, ne parleranno tanti, qualche domanda che magari non tutti ti faranno è l'inserimento di Davide Bruttini in corsa, è arrivato credo da due giorni, è quello che ti aspettavi come tipo di giocatore? Davide è un giocatore d'utile, l'avete visto insieme a Guido, l'avete visto insieme a Tommaso, un giocatore che ci dà fisicità, un giocatore che è intelligente, conosce il proprio ruolo, conosce il ruolo all'interno di una squadra, sa giocare a basket, viene da una scuola importante come Siena, quindi è chiaro che abbiamo passato un'altra settimana dove abbiamo dovuto inserire un giocatore, quindi non voglio tornare sul discorso di prima, lui è un giocatore che ci aiuterà perché ha delle qualità che possono tornare utili il suo dinamismo e comunque la sua abnegazione per il risultato di squadra. Cominciamo un giurone di ritorno, comunque finisce il giurone d'andata con Torino, con tutti i problemi che ha avuto di roster, si trova in un'ottima posizione, Coppa Italia conquistata, si ricomincia, può fare meglio a partire dalla partita di Biella adesso sperando nella fortuna anche di avere tutto il roster sempre disponibile a partire dalla partita con Biella dove già poteva essere un upgrade rispetto al ventello circa che è finita la prima di andata. Sì, comunque anche se può sembrare poco aver contenuto alla fine il risultato da sotto 14 a sotto 8 è una cosa che mi auguro che possa tornare utile. Noi dobbiamo ripartire, dobbiamo essere umili pensando a quelli dietro ma essere ambiziosi guardando la classifica verso l'alto. Vogliamo risalire, adesso Verona è scappata ancora due punti di più, ci sono una serie di squadre che si sono dimostrate comunque di buon livello. Biella ha avuto una partenza forte, poi ha avuto una serie di problemi per questioni che riguardano il campo e non, tutti sanno, i contraccolpi, la squadra giovane, il doppio campionato che ti segna molto anche loro immagino che si compatteranno e domenica sarà di nuovo una battaglia ma noi abbiamo 15 battaglie da fare più la Coppa e ogni partita è un'occasione per migliorare e per vincere. Aspettiamo la battaglia del Ruffini, Torino-Biella non c'è bisogno neanche di mettere carne al fuoco. No, assolutamente, è bello vivere queste partite, la grande rimonta contro Barcellona, la vittoria con le unghie con i denti a Veroli, il grande derby con Casale, sono tutte emozioni che crescono, l'ambiente che da un po' guardingo si sta avvicinando a questi ragazzi che stanno davvero dimostrando di tenere al progetto, io ne sono contento e ripeto, ringrazio tutti, ma non siamo soddisfatti ancora perché vogliamo andare avanti, ripeto, è bello avere degli obiettivi da raggiungere, ci sono delle squadre avanti e quindi le squadre che sono avanti a noi sono già delle lepri che corrono ma noi vogliamo correre lì dietro e riprenderle prima possibile. Quindi puntando il fucile alle lepri avanti, Mancinelli ci sarà o non ci sarà domenica? Bella domanda, voglio dire, dirlo adesso sarebbe una notizia interessante per i tifosi, però magari anche utile per Biella, quindi no, a parte gli scherzi non si è allenato ancora mai con la squadra e il suo recupero procede nei tempi, però è stata un'operazione delicata perché poi sapete che il gomito è ovviamente un'articolazione decisiva per il tiro e soprattutto è il gomito sinistro che lui usa per tirare, quindi dobbiamo avere l'intelligenza e l'oculatezza di sapere che il campionato è lungo e fare un passo falso ora può costarci molto caro. Coach Becchi è già sulla testa la prossima partita, allora c'è un solo modo per scoprirlo, ore 18, domenica, Torino-Biel. Assolutamente vi aspetto e riempiamo di nuovo il pala ruffini come abbiamo fatto domenica scorsa. Grazie Luca, buon rientro. Grazie a tutti, arrivederci.